Preside Fafini, l'Istituto Vazari si è dotato in questi giorni di nuovi strumenti multimediali. Sì, noi abbiamo acquistato 20 schermi interattivi, 20 touchscreen con diverse dotazioni, le abbiamo date a tutte le classi prime, a gran parte delle seconde e delle terze. A marzo dell'anno prossimo noi con una seconda dotazione integriremo e doteremo tutte le classi. È uno strumento che si aggiunge agli altri strumenti presenti nella scuola, gradatamente gli studenti si impadroniranno del loro uso, uso che è facilitato loro dal fatto che si impiegano come un telefono. Il sistema è Android, anche se alcune anche il sistema Windows. Abbiamo Nicolò, ecco, alle mie spalle che ci fa vedere, per esempio se vogliamo aprire il browser, Nicolò come lo possiamo trovare? Il browser probabilmente appare qui di lato. Ecco qua, facciamo una ricerca, ricerca qualcosa che abbia magari attinenza con la scuola, non ci fa vedere le partite da preventina. Insomma, vai, fai pure, trova un cuoco, uno chef famoso. E quindi, questa è una classe dell'Istituto Alberghiero, sono ancora agli inizi perché si devono formare per i primi due anni con le basi teoriche di tutte le discipline, quindi all'inizio studiano molte materie teoriche. Qualcuno di voi ragazzi era venuto per spadellare? Sei offline, come mai? Vediamo di risolvere...